Guardala in fondo, guardala! Ha deciso di restare invece di andare in permesso questo weekend. Quella magari non lo finirà il programma, ma lei ha più cuore, ha più carattere di quanto ne hai tu! E smettila di fissarmi così! Certo che il destino ti ha dato delle carte di merda, non è vero, Mario? Non mi lamento, signore! Sei! Valle, figliolo! Ho fatto delle indagini, ho guardato la tua pratica, so tutto di tua madre, non mi fissare in quel modo, eh? So che tuo padre è un alcolizzato e un gran puttaniere, è per questo che non funzioni, Mario, perché nella parte più profonda di te stesso non mi squadrare in quel modo! Nella parte più profonda di te stesso, tu sai che questi ragazzi sono meglio di te, non ho ragione, Mario, non è così! No, signore! No, signore! No, signore! No, signore! No, signori! Ja, e faremo!